A marzo inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Albiano sul fiume Magra, crollato l'8 aprile del 2020 e dureranno circa un anno. È stata firmata dai presidenti della Toscana Eugenio Gianni e della Liguria Giovanni Totti l'intesa per l'approvazione del progetto definitivo del nuovo ponte di Albiano e del progetto esecutivo delle rampe di collegamento alla A12. Il progetto del nuovo ponte è stato illustrato ad Aulla dal commissario straordinario di governo Fulvio Maria Soccodato. La progettazione esecutiva è già stata avviata in contemporanea alle attività preliminari di cantiere che saranno ultimate entro febbraio. Poi si avvierà il cantiere vero e proprio. Il termine dei lavori e l'apertura al traffico è prevista a marzo 2022. L'investimento complessivo è di oltre 23 milioni di euro. La cosa bella è che può partire davvero alla svelta, i lavori che sono propedeutici e poi l'inizio dei cantieri. È questione davvero di giorni e quindi è importante che insieme al governatore Toti, Toscana e Liguria sotto questo aspetto vivono attraverso quel ponte il simbolico rapporto di stretta vicinanza, di fratellanza diciamo. Oggi diamo via al nuovo progetto del ponte, diamo via anche a quelle bretelle attese dalla parte ligure di questa valle, di questo fiume che serviranno a mitigare i disagi fino al completamento dell'opera. Quindi direi che è una buona giornata e speriamo che tutto quello che oggi si dirà e si farà si realizzi in fretta. Il nuovo ponte sul fiume Magra sarà composto da quattro campate per una lunghezza complessiva di circa 288 metri. Il piano prevede la realizzazione di rampe provvisorie all'autostrada 12 in collegamento diretto con la SS 330 a Ceparana che saranno pronte in quattro mesi. Con fine dei lavori a giugno, il valore di investimento di quest'opera è di circa 4 milioni e mezzo di euro. Grazie a tutti.